Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti al nostro nuovo appuntamento con la lanterna di Diogene, io sono Thomas Predieri e con noi questa sera avremo il professor Massimo Storchi, storico, che ci parlerà dell'affermazione del fascismo a Reggio Emilia, 100 anni dall'affermazione del fascismo. Allora, prima di iniziare, come sempre io vi ricordo che potete tranquillamente commentare durante la relazione sotto il nostro post di Facebook, vi ricordo i prossimi due appuntamenti, lunedì prossimo 22 marzo con Matteo Manfredini a parlare di religiosità nel Reggiano, quindi ritroveremo Matteo Manfredini e il 29 di marzo con il professor Giuseppe Giovanelli a parlare degli insediamenti e delle strade nel Gastaldato di Bismanto. Vi ricordo inoltre che dopo la conferenza del 29 avremo una pausa almeno di una settimana date le festività pasquali. Io ringrazio intanto questa sera a nome della lanterna, a nome di tutte le associazioni membri, quindi Hauser, Liberamente, Legambiente, Villa Cultura, oltre ovviamente al patrocinio del Comune di Castelnuovo, il professor Storchi per aver voluto partecipare questa sera, averci anche aiutato nella realizzazione di questa nuova edizione. Grazie mille professore, grazie mille per tutto l'aiuto. Io quindi le lascerei la parola per iniziare questa serata e questa nuova conferenza. Va bene, grazie a voi dell'invito. Chi mi conosce sa che io ho le radici sull'appennino, quindi ben volentieri, quando posso, metto in comune le cose che possono essere utili per fare un pezzettino di strada insieme. Quindi vi ringrazio tutti quanti per questa opportunità. Il titolo lo ha già detto lei, appunto nel 1921, cioè nel 2021, cent'anni dall'affermazione del fascismo a Reggio Emilia. Gli anniversari servono anche a questo, nel senso di dare l'occasione per tornare a parlare, a ragionare su alcuni temi. Perché è chiaro che la domanda che può nascere subito è, beh, ma stiamo ancora a parlare del fascismo? Ecco, allora io, nelle cose che mi diranno stasera, uno dei miei obiettivi è alla fine, ma che si capisca che ha ancora senso parlare di fascismo. Ovviamente il fascismo, poi le distinzioni sono tante, cioè certamente il fascismo come fenomeno storico è finito con la seconda guerra mondiale, con la liberazione, cioè nelle nostre terre, ma con la fine appunto della guerra, ma nel maggio del 1945. Quindi il fenomeno storico fascismo è finito, bene, per fortuna. Certamente però il fatto che ancora oggi, non solo sui social, ma sulla stampa, sui mezzi di comunicazione, non sia infrequente a trovare qualcuno che si definisce più o meno orgogliosamente fascista, fascista del terzo millennio, fascista, fascista, ecco, è un problema. C'è un problema anche perché non è soltanto una questione legata al nostro paese, quello che sta accadendo. In altri paesi dell'Unione Europea, penso alla Polonia, penso all'Ungheria, sono dei segnali preoccupanti, non del ritorno del fascismo, è chiaro, ma che non vedremo più le sfilate con le camicie nere per le nostre strade, è chiaro. Però ecco, tutto quell'insieme di contenuti, non voglio usare il termine valori, perché non sono valori, ma di idee, di posizioni che parti non trascurabili, appunto esprimono. Con l'aggiunta, oltretutto, che chi ha qualche anno ci si ricorderà che una volta, insomma, dire io sono fascista non era una cosa molto frequente. Quindi anche questa visibilità, ma che è stata data negli ultimi anni, i social, tutto quanto, insomma, tutta la combinazione dei mezzi di comunicazione, insomma, ecco, questo rende, credo, sensato parlare di fascismo. Quindi, ecco, perché, appunto, cogliendo il fatto, e poi ce ne parleremo anche, ce ne ho specifico, che esattamente cento anni fa, cioè per esattezza il 30 marzo 1921, gli squadristi assalivano, c'è la sala del Tricolore a Reggio Emilia nel corso del Consiglio Comunale e con le minacce, con urla strepiti, si allontanavano, facevano uscire dall'aula il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali liberamente eletti nell'autunno del 20. In quel giorno finiva la democrazia, quella fragile democrazia che c'era, però, insomma, quello era e ci sarebbero voluti altri 24 anni prima che in quella sala del Tricolore, col 25 aprile, entrassero i partigiani e finalmente non ci si potessero tornare ad una libera riunione. Io stasera vorrei, allora intanto, dare a noi tutti, c'è una qualche rinfrescata su cosa è stato il fascismo e sul perché il fascismo ha vinto e poi cioè perché il fascismo per fortuna ha perso. Ecco, ovviamente il tempo è limitato e io andrò per punti, cioè dandone per scontato il fatto che gran parte siano questioni acquisite poi, ma come ha detto lei all'inizio tutte le domande che vorrete porre alla fine, ben volentieri, non c'è nessun problema. Quindi io partirei da come nasce il fascismo, cioè le radici del fascismo. Io parlo e la prospettiva deve essere sempre considerata su scala europea, nel senso che è vero, il fascismo l'abbiamo inventato noi italiani, abbiamo questo poco onorevole primato, ma così è, ma il fascismo è una risposta alla enorme crisi appunto accaduta dopo la prima guerra mondiale. Non torna raccontarvi la prima guerra mondiale, se diamo ovviamente per scontato il fatto che con la prima guerra mondiale entra in crisi un equilibrio europeo, ciò che reggeva in sostanza da un secolo, cioè dal congresso di Vienna, ma che abbiamo studiato al liceo, in cui dopo la parabola nazionapoleonica viene con la restaurazione dato un assetto stabile all'Europa, questo assetto dura un secolo, in pratica fino alla prima guerra mondiale. E tutto anche quello che accade in questo secolo, perché ovviamente la storia va avanti, è all'interno di questo equilibrio. Anche la stessa nascita dello Stato italiano, il Regno d'Italia del 1861 nasce in questo contesto, in questo equilibrio geopolitico. Questo equilibrio geopolitico va in frantumi con la prima guerra mondiale, ci pensiamo soltanto alla fine dell'impero austro-ungarico che era un impero plurisecolare, il trionfo dei nazionalismi, la nascita di nuovi stati, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia eccetera eccetera. Altro elemento fondamentale che porta la prima guerra mondiale è anche, non dimentichiamolo, perché un altro dei poli attorno a cui gira tutta la storia è la rivoluzione bolshevica, la vittoria della rivoluzione bolshevica in Russia, quindi il crollo della Russia, dell'Izara. E anche questo concorre a questo sconquasso. L'equilibrio è andato in pezzi, purtroppo ci vorrà un'altra guerra, la seconda guerra mondiale in fondo è la soluzione per rimettere l'Europa andata in pezzi nella prima guerra mondiale, poi dopo entriamo nella contemporaneità non vera e propria del secolo scorso. Da questo il fascismo esce, il fascismo cioè se volessimo individuare le sue radici culturali, antropologiche, ancora prima che politiche. ecco, cioè le radici sono nelle trincee della prima guerra mondiale, sono nella violenza quotidiana, nell'esperienza della morte quotidiana di una guerra che come il pontefice dell'epoca ci definì, fu un inutile massacro. E quando si dice massacro si dice, come dire, è una definizione, è veramente tecnica. cioè pensiamo che l'Italia nella prima guerra mondiale ha avuto oltre il doppio dei caduti militari della seconda guerra mondiale e la seconda guerra mondiale non è stata, come dire, passatemi le espressioni ironiche, una scampagnata. Ecco, nella prima guerra mondiale noi perdiamo oltre 600 mila più militari, più militari italiani, soldati. E' una carneficina che tutta l'Italia paga perché la prima guerra mondiale è la prima guerra alla quale partecipano, sono chiamati alle armi da tutte le regioni d'Italia. sulle trincee del Carso del Trentino, dell'Isonzo, ci si trovano i siciliani, i liguri, gli emiliani, i piemontesi, tutti, per la prima volta. E questo vuol dire che quelli che sopravvivono e tornano a casa portano in tutta l'Italia questo senso di, cioè da un lato, di attese perché una guerra così ma con un prezzo così alto dovrà avere una, come dire, c'è una qualche ricompensa, no? E dall'altra parte questa esperienza di morte, esperienza di violenza. Da questo ha le sue radici il fascismo. Il fascismo è una ideologia sostanzialmente di morte, sempre dall'inizio alla fine. Se non è un caso, io adesso vi farò vedere alcune immagini, ma sono abbastanza note, che la... Allora, un attimo, vediamo se ho imparato come si fa. Ecco, allora andiamo indietro, andiamo indietro, andiamo indietro. Ecco, questo è l'immagine del fascismo. Ha le sue origini, vedete, sono dei reduci, vuol dire questi sono degli squadristi, sono reduci della Prima Guerra Mondiale, in divisa, cioè il fascismo trasporta le divise nella vita civile, ci darà una divisa a tutti e, appunto, vedete le immagini, l'iconografia importante, cioè la morte, il pugnale fra i denti, era il simbolo degli arditi, gli arditi erano i commandos del nostro esercito e la loro divisa era la camicia nera. Ecco qua, il nero, la camicia nera, la morte, ma la morte vittoriosa, vedete, ma che è incoronata, cioè di ulivo e di quercia, le tipiche, appunto, le fronde del vincitore. Ecco, questo è quello che il fascismo trae da questo enorme, enorme, scusate, io scorro, eccoli qua, ecco qua gli squadristi, in divisa, vedete, c'è divisa militare, il nero, c'è la foto in bianco e nero, ma il colore servirebbe molto a poco, le camicie nere, ancora le armi, gli elmetti, ecco, qui è come se si portasse una, c'è la guerra in casa. E per molti il fascismo, lo squadrismo soprattutto, perché all'inizio non ci dobbiamo parlare molto, no, cioè dello squadrismo, lo squadrismo è un fenomeno di giovani. Il fascismo è un movimento di giovani, non è il caso che l'inno ufficiale del fascismo, come si intitola? Si intitola giovinezza. Quindi sono i giovani che tornano dalle trincee, perché al fronte vanno i giovani, muoiono i giovani, cioè non vanno gli anziani, tornano questi giovani, addirittura tornano quelli ancora più giovani, che non avevano avuto la possibilità di entrare in azione, no, cioè fino, appunto, sappiamo che per la guerra mondiale vengono chiamate le classi fino al 1899. Ecco, fra gli squadristi noi abbiamo giovani del 1900, 901, 902, che non erano potuti andare in trincea, ma ora possono, con lo squadrismo, riprendersi la loro guerra, e che non è più la guerra verso il nemico, verso l'austriaco, ma è la guerra interna verso il rosso. Ecco, abbiamo detto il nero ed il rosso, cioè non è un caso che gli storici, per semplificare un po' anche sui manuali di storia, parlino del biennio rosso e del biennio nero, c'è il biennio rosso, c'è il 19-20 ed il biennio nero, appunto, 21-22, fino alla marcia su Roma. Ed è questo rosso che è il grande spauracchio, ma che genera poi inevitabilmente il nero. Cioè, quando, cioè fra le cose che diceva Lenin era, non c'è cosa peggiore che urlare rivoluzione e poi non fare la rivoluzione, perché è chiaro che il nemico, il nemico di classe in questo caso, prenderà le sue contromisure. E sostanzialmente, poi, cioè le letture sono tante, ma per quello che ci serve stasera, cioè il fascismo è interpretabile soprattutto come una forma di reazione, una forma di risposta, è una forma di risposta preventiva ad una rivoluzione che in Italia non ci fu e non poteva esserci, perché in Italia non c'era nessuna delle condizioni. No, cioè per la rivoluzione d'Italia, per quanto non fosse un paese particolarmente avanzato, non era uno stato ancora di tipo feudale come le russi, insomma. Insomma, adesso, per farla breve, non c'erano le condizioni. Ma questo agitare il rosso è chiaro, ma che muove tutta una serie di azioni che portano ad una saldatura fra quello che diceva una volta le classi dirigenti e c'è la necessità di fermare questa potenziale, appunto, no, pericolosa avanzata. Ho detto all'inizio non voglio andare oltre, no, cioè col tempo mi interessava appunto per accogliere quest'origine del fascismo, perché? Perché è in questa origine del fascismo che è forse una delle sue armi decisive che ci spiegano perché il fascismo vince. Cioè, perché attenzione, cioè non è ascoltato assolutamente, cioè se andiamo a rivedere come in un flashback quello che accade immediatamente dopo la prima guerra mondiale, nel 19, nel 20, nessuno avrebbe dato, come dire, nessuno avrebbe scommesso su Mussolini, assolutamente. Cioè non era l'uomo della provvidenza come è stato chiamato. C'è stato un uomo molto abile, perché certamente Mussolini aveva delle doti notevoli, soprattutto di dispregiudicatezza e di mancanza di principi fissi, ecco. C'è però, c'è nulla, era assolutamente predeterminato. Cioè cos'è? Ma che innesca appunto la, poi la, no, cioè la vittoria essenzialmente, io individuo qui, fra le tante, due cause. Cioè la prima, che il fascismo è un movimento veramente nuovo, veramente moderno. E questo non lo capisce nessuno subito. E chi lo capisce, lo capisce troppo tardi, parlo dell'avversario, dei socialisti, e in parte lo capisce anche chi diventa poi alleato. C'è la monarchia. C'è la monarchia, no, c'è Vittorio Emanuele III, che aveva fra i suoi tanti difetti sostanzialmente quello di avere una immensa autostima, è convinto che in fondo il fascismo sia uno strumento utile, ma da utilizzare per qualche anno, per rimettere le cose a posto, per rimettere le lancette dell'orologio indietro. Dopodiché, come avrebbe detto Enrico Mattei, io i fascisti li prendo come un tassi, appunto ci salgo, ci vado dove devo andare, alla fine scendo e pago. Non fu così, ma questa, attenzione, a parte i limiti di Vittorio Emanuele III, la questione è proprio la grande novità del fascismo. Cioè, il fascismo è un movimento che è veramente del Novecento e questo lo è per due motivi sostanzialmente che poi ci riprenderemo anche dopo, per, allora, c'è un elemento decisivo, il fascismo introduce l'uso della violenza nella lotta politica. È la prima volta nella storia che accade. se andiamo a vedere, tanto per non annoiare sempre con la stessa immagine del sottoscritto, ecco. Questa, c'è un'immagine, no? Conosciamo tutti, no? È il quadro, il quarto stato di Pellizza da Volpedo, un quadro di fine Ottocento, è la rappresentazione plastica e in qualche modo poetica anche del proletariato. Il quarto stato, vedete, no? Che è come se entrasse nella storia, viene avanti verso la storia. è un proletariato, uomini, donne, anche bambini, ma vedete, a mani nude. Sono persone disarmate. Non esiste in questo mondo, in questa cultura, alcuna forma di uso delle armi. Cioè, la violenza è la violenza del contrasto sociale, dello sciopero, dell'organizzazione. Cioè, la violenza è quella che sostanzialmente per decenni non viene agita dagli, appunto, no, insomma, dai proletari, ma è la violenza che i proletari subiscono dalle forze dello Stato, Carabinieri, polizia. Ecco. Quindi è questa la cultura socialista ed è una cultura ottocentesca. È una cultura positivista, è una cultura, ma che si basa sulla visione ottimista. Cioè, c'è la storia, l'uomo va verso un futuro migliore, perché l'uomo è buono. Tocca alla politica, tocca all'azione sociale estrarre questo uomo buono che viene schiacciato, ovviamente, dalla povertà, dalla miseria, dall'ignoranza. Cioè, una volta tolta l'ignoranza, la povertà, la miseria, l'uomo va verso il futuro. Ed il futuro è un futuro radioso. Cioè, non è un caso, ma l'immagine, il simbolo del socialismo in tutta Europa, cos'è? è un sole che nasce, è l'alba di un nuovo giorno. Purtroppo, invece, non si potrebbe dire, ma con un po' ma con un po' di ironia, come dire, cioè di ironia, cioè triste, che forse quello era il sole al tramonto. Perché il fascismo è il Novecento, cioè il fascismo è la violenza che viene dalle trincee, ma che viene da quella storia lì, che viene portata come uso di lotta politica. E capite, capite che uno scontro fra un gruppo organizzato e armato ed un gruppo disarmato è già deciso in partenza. Ma non solo dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista intellettuale. Cioè, soltanto, cioè tardivamente da parte ma dei socialisti, ci sarà un minimo di organizzazione, saranno gli arditi del popolo, ma a quel punto ormai i giochi sono finiti. E quindi il fascismo passa per questo e in pochissimi mesi arriverà a colpire, a distruggere quello che era stato costruito in decenni di lavoro dai socialisti. questo è la cronologia è estremamente semplice, nel biennio nero si distrugge quello che era stato fatto in vent'anni prima. L'altro fatto, noi abbiamo detto la violenza, l'altro fatto che poi è e l'altra faccia della medaglia è che questa violenza che viene agita non trova nessun limite da parte dello Stato. l'assalto che viene fatto alla Sala del Tricolore il 30 marzo del 21 avviene senza che ci sia un carabiniere un poliziotto nulla. Cioè lo Stato non partecipa sta a guardare se va bene favorisce negli altri casi. Quello che era accaduto un mese prima con l'assalto della cooperativa di Sant'Ilario c'è esattamente questo ce l'abbiamo ricordato come storico ce lo trovate ancora sul web il video i fascisti arrivano a Sant'Ilario assaltano beh ci assaltano il comune perché impongono al sindaco di esporre il tricolore poi assaltano la cooperativa e i carabinieri stanno a guardare nel momento in cui appiccano il fuoco alla cooperativa e dall'interno della cooperativa qualcuno perché ormai è costretto all'interno col fuoco e usa le armi ecco benissimo i carabinieri intervengono ma per arrestare i socialisti se non i fascisti quindi e questo accade ovunque questa è la regola che non si giustifica ma consente di interpretare è chiaro che lo Stato liberale lo Stato borghese fra le due parti aveva già scelto fra chi il movimento il movimento socialista che oltretutto attenzione il movimento socialista già da prima della guerra aveva avuto il sopravvento la parte massimalista perché noi a Reggio abbiamo avuto la fortuna di avere il riformismo socialista con Prampolini con Zibordi ma è da prima della guerra ma che il socialismo italiano ha virato verso il massimalismo ecco allora poi con l'arrivo della rivoluzione d'ottobre immaginatevi il terrore del rosso delle classi dirigenti padronali e anche introduciamo un altro elemento che poi non ci torneremo ancora a trattare la chiesa se noi non percepiamo il trauma della nascita per la prima volta in Europa quindi come dire allora l'Europa era ancora il centro del mondo di uno stato ateo l'Unione Sovietica nasce come stato ateo ecco con le persecuzioni con la distruzione di quanto appunto non c'è ma di religioso c'era ecco immaginatevi il riverbero di questo atto su tutta l'Europa cristiana ecco in particolare sull'Italia cattolica è chiaro che anche da parte del della chiesa cattolica non dico ma che la scelta fosse obbligata però insomma è chiaro che fra un movimento che ma che si definisce appunto non c'è difensore dei principi c'è difensore ma delle tradizioni della nazione e uno ma che si riferiva a quell'esperienza dell'Unione Sovietica beh insomma è chiaro che la scelta era abbastanza semplice in tutto questo aggiungiamoci tanto per complicarci un po' la vita la grande capacità del fascismo italiano di adeguarsi al ai cambiamenti di scenario cioè il fascismo nasce nel nel marzo del 1919 ma con l'assemblea di piazza Sansepolcro a Milano è un è uno dei tanti movimenti che nascono fra i nazionalisti gli ex combattenti cioè non è che particolarmente colpisca l'immaginario lo colpisce se però incominciamo a pensare anche alla sede cioè la sede che viene concessa in cui si sviluppa questa prima riunione è la sede dell'Unione industriale di Milano non è un caso cioè perché il fascismo nascerà su due corni ovviamente nella penura padana quello industriale quello agrario ecco ma se andiamo a leggere le dichiarazioni di Benito Mussolini in quell'occasione sono come dire abbastanza sorprendenti se usiamo questa espressione perché lui dice questa è l'unica citazione ma che vorrei leggervi a chi gli chiedeva ma voi chi siete questo movimento i fasci no? cosa volete chi siete e lui chiarisce subito ma che che non è le citazioni ma che faccio non hanno una eco sulla contemporaneità però dice noi non siamo né di destra perché la destra vuole conservare tutto ma non siamo neanche di sinistra perché la sinistra vuole distruggere tutto e allora la domanda è quindi e la risposta è fantastica perché dice noi ci permettiamo di essere aristocratici e democratici conservatori e progressisti e reazionari e rivoluzionari e legalisti e illegalisti a seconda delle circostanze di tempo di luogo e di ambiente perfetto oggi oggi noi ci definiremmo una ideologia liquida molto liquida infatti se andiamo a leggere la carta di Sansepolcro ci troviamo di fronte ad un movimento che è repubblicano ed il fascismo governerà per vent'anni l'Italia con la monarchia un fascismo che se non ateo è agnostico laico e infatti il fascismo nel 29 farà l'accordo con la chiesa ma con i patti lateranensi ecco è questa capacità questa spregiudicatezza che in quella fase di confusione di caos rende il fascismo vuol dire per stare ai ai problemi dei nostri giorni è un virus che muta molto velocemente ma con grande efficacia che si adatta benissimo e tant'è che il fascismo poi fa scuola il fascismo è un prodotto che noi italiani esportiamo perché Adolf Hitler considerava Mussolini il suo punto di riferimento tanto da scimmiottare lo stesso appellativo di Führer che è esattamente la traduzione di Dux Duce esattamente però se andiamo a vedere sarebbe molto interessante ma ci porterebbe lontano un paragone con il nazismo è chiaro che c'è un elemento molto come dire molto differenziato se noi cerchiamo lo abbiamo appena detto un testo di riferimento cos'è il fascismo e andassimo a cercare il libro che ha scritto Benito Mussolini chi meglio di lui non lo troveremmo perché Mussolini non lo ha mai scritto ha scritto migliaia di articoli perché era un ottimo giornalista ha scritto migliaia di discorsi ma la summa del fascismo non c'è c'è ma dobbiamo andarla a cercare fra i risvolti negli anni trenta quando l'enciclopedia italiana la Treccani decide di fare di inserire la voce fascismo l'imbarazzo è forte perché ovviamente la preoccupazione è ma chi è ma che si prende il rischio di andare a scrivere cos'è il fascismo in maniera ufficiale poi ma con molto pragmatismo il il direttore dell'enciclopedia ha una bella pensata dice beh ce lo chiediamo al duce cioè chi meglio di lui può scrivere la voce sul fascismo e la voce sul fascismo ufficialmente è firmata da Benito Mussolini in realtà ma con tutta probabilità ce l'ha scritta il filosofo Giovanni Gentile per dire come ideologia capace di adattarsi capace di riconoscere le situazioni cosa ma che è ben diversa nel nazismo cioè se noi vogliamo sapere l'ideologia del nazismo andiamo a leggerci il libro Mein Kampf c'è la mia battaglia scritta da Adolf Hitler in carcere nel 23 e lì tragicamente lui aveva scritto precisamente tutto quanto avrebbe fatto e come lo avrebbe fatto e lo ha fatto altra differenza ma che credo sia importante non ricordare è la la gestione del potere cioè mentre in Germania una volta andato al potere legalmente come in Italia in Germania con le libere elezioni del 33 Adolf Hitler è il cancelliere del Reich una volta andato al potere il potere è di Adolf Hitler del Führer del cancelliere del partito nazionalsocialista poi è chiaro ma che va negoziato con l'industria ma quello è il potere in Italia anche qui noi facciamo faremmo più fatica ad individuare il punto esatto del potere e lo vedremo anche a Reggio perché ma perché per tutto il ventennio e qui vorrei farvi vedere una immagine delle nostre parti che fotografa in maniera ecco qua ecco qua allora la foto è quella di una quarta elementare di Scandiano nel 1934 ci potremmo fare molte osservazioni sul fatto ma che è una classe molto numerosa questa è la classe femminile poi c'era una classe maschile naturalmente che c'era la mensa chiamiamola così c'è la refezione in classe ma quello che mi interessa è la parete di fondo che oggi noi negli edifici pubblici abbiamo l'immagine del presidente Mattarella ecco qui le immagini sono due il capo dello Stato il re Vittorio Emanuele III e il capo del governo Sua Eccellenza Benito Mussolini questa è l'Italia per 21 anni questa è l'Italia questa questa condivisione del del potere fra la monarchia e del fascismo tutte le leggi che in questi 21 anni vengono promulgate dalle leggi speciali del 25 alle leggi sulla rassa del 38 la dichiarazione di guerra sono tutte a doppia firma Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini quindi come dire per forza anche in un certo senso il fascismo doveva avere questa capacità di adattarsi perché le condizioni erano quelle in più attenzione questa questa gestione del del potere in condominio ha anche un un terzo livello che non è politico non è ufficiale non troviamo una terza firma sulle leggi ma è la chiesa cattolica e la chiesa cattolica per tutta la durata del fascismo con un'evoluzione poi come dire non è un blocco monolitico che entra nel fascismo ed esce dal fascismo uguale assolutamente no però è parte di questa gestione del potere che il fascismo con abilità riesce appunto a a distribuire e a gestire io guardo sempre i tempi per quello che abbiamo concordato vorrei venire un attimo a reggio appunto per il centenario perché perché parliamo di come il fascismo ha vinto a reggio ovviamente perché siamo a reggio ma non è questo la motivazione più forte cioè la motivazione è che per tutto quello che abbiamo detto e che dono per acclarato l'azione del socialismo riformista l'azione di di lotta sociale di lotta sindacale che più o meno in buona parte d'Italia non in tutta naturalmente ma aveva dato dei risultati fra la fine dell'ottocento e la prima guerra mondiale ecco la città di reggio Emilia aveva un ruolo fondamentale non era una città qualunque come Asti Padova non lo so c'è la Spezia era una cosa speciale se voi foste andati in corteo in qualche parte d'Italia prima della prima guerra mondiale in un corteo di socialisti un corteo del primo maggio ecco in una qualche manifestazione politica avreste sentito con con molta probabilità lo slogan fare come Reggio Emilia faremo come Reggio Emilia perché Reggio Emilia era la punta più avanzata del socialismo riformista in Italia lo era lo era perché è stata la prima provincia capoluogo di provincia ad avere un'amministrazione socialista con libere elezioni nel dicembre 1899 sulla torre del bordello sventola la bandiera rossa 1899 è stata la città ovviamente dove grandi figure come Camillo Prampolini Giovanni Zibordi erano i punti di riferimento è stata una una provincia dove sono stati dove il progetto riformista non era stato soltanto una teorizzazione ma era stata una concreta applicazione pratica di iniziative di lotte l'immagine questa è l'immagine della prima cooperativa di consumo 1893 la cooperativa di consumo di Rivalta purtroppo è stata abbattuta negli anni 80 del scorso secolo era più o meno dove adesso c'è la rotonda in mezzo al paese ecco il socialismo riformista costruisce i luoghi per il proletariato le case del popolo le case proletarie che oggi diremmo sono delle strutture multifunzione perché vedete c'era la cooperativa di consumo all'interno c'era il caffè il bar l'osteria c'era una piccola biblioteca c'era un piccolo teatro era la costruzione di quel mondo parallelo cioè teorizzato ma dal riformismo socialista cioè e voi borghesi avete a reggio il teatro municipale avete il teatro a riosto avete la biblioteca municipale noi ci facciamo il nostro teatro la nostra casa del popolo a Rivalta come a Massensatica a Villospizio queste erano costruzioni appunto reali che erano il frutto di questa appunto visione riformista che partiva attenzione ma da cose molto concrete perché a parte ma che ben poche cose sono più concrete che una casa insomma che una costruzione come questa ecco quindi partiva da un'analisi della società la faccio breve ma mi interessa perché poi è qualche cosa che all'epoca mise tante radici profonde che alla fine qualcosa lo vediamo ancora oggi pensate il tema dell'istruzione allora le amministrazioni socialiste a Reggio cosa fanno costruiscono scuole elementari in tutto il comune perché all'epoca le scuole elementari erano di pertinenza dell'amministrazione comunale e sono le scuole per i figli dei contadini perché l'economia di Reggio era un'economia contadina cioè le Reggiane nascono nel 1904 quindi sono una cosa più recente ma perché le scuole e parallelamente le scuole nelle case del popolo per gli adulti non era una questione semplicemente di cultura certamente se vi ricordate appunto cosa diceva Don Milani che il padrone è padrone perché sa più parole del contadino certo però era anche una questione politica nell'Italia di fine ottocento fino alla prima guerra mondiale al dodici la cittadinanza era estremamente limitata è vero c'era il Parlamento avevamo lo statuto vero ma chi era un cittadino davvero cioè chi poteva far parte della come dire della nazione allora la legge elettorale dell'epoca prevedeva il voto soltanto ai maschi che avessero compiuto 21 anni che avessero un reddito un certo livello di reddito oppure che sapessero leggere e scrivere allora capite che per far diventare cittadini i contadini e gli operai l'unica era insegnare loro a leggere e scrivere perché è chiaro che il reddito non era al momento possibile per farli diventare cittadini per farli partecipare alla vita pubblica di tutti e non è un caso ma che i socialisti vincano le elezioni a Reggio Emilia perché era il frutto di questa alfabetizzazione di massa di di massa i numeri erano certamente piccoli ma questo fenomeno di 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 fare entrare quella folla ma che abbiamo visto nel quadro di Pellizza da Volpedo nella società ma nella società cioè nello Stato partecipare alle decisioni dello Stato e questo attenzione ancora oggi Reggio va famosa per l'attenzione all'educazione dei bambini bellissimo ci siamo tutti contenti ma ricordiamoci che questa attenzione questa sensibilità non è più avuta dal cielo a un certo punto perché è arrivato un pedagogo un intellettuale come Malaguzzi tanto per capirci ma era una tradizione era una era un'esigenza un desiderio il primo asilo in Omanodori viene fondato già nell'ottocento quindi questa attenzione abbiamo visto la casa del popolo da Cidrivalta ma la cooperazione di consumo la cooperazione di consumo è il mod è uno strumento di difesa del proletariato cioè tu contadino tu operaio non devi essere oggetto di lucro da parte del commerciante sui generi di prima necessità noi con le cooperative di consumo diamo il giusto prezzo a quello che ti serve ogni giorno e questo attenzione è cambiato il mondo è cambiato tutto non faccio delle semplificazioni ma le cooperative di consumo sono quelle dove andiamo ancora oggi a fare la spesa noi eh sì c'è la cop con sigma quell'idea poi naturalmente ci sarebbe una ridicola dire è tutto uguale no che non è uguale niente però quell'idea è sopravvissuta ultima fra le tante quando una una delle prime azioni dell'amministrazione socialista a Reggio ecco qua nel 1901 viene aperta la prima farmacia comunale 1901 due anni dopo la conquista del comune e anche qui lo scopo è estremamente estremamente semplice perché il farmacista privato deve arricchirsi sul proletario oltretutto nel momento in cui è ammalato e quindi è ancora più debole noi istituiamo la farmacia comunale per dare i farmaci ai proletari al giusto prezzo e attenzione per noi è normale oggi andare a andare a comprare l'aspirina alla farmacia comunale ma attenzione ma non ci sono molte città in Italia anzi forse ormai non ce ne sono più dove esistono ancora delle strutture pubbliche in quel settore e via così una volta conquistato il comune iniziò tutto un percorso di municipalizzazione acqua il gas la luce tutto fu di proprietà appunto pubblica addirittura ma si arrivò a fare un forno c'è per il pane non c'è per il pane non c'è per non c'è per i poveri i proletari insomma c'è per chi aveva bisogno ecco quindi questo è qualche cosa che in quegli anni misero radici profonde la cooperazione al momento della vittoria del fascismo a Reggio la cooperazione ormai aveva organizzato ogni settore economico c'era la cooperativa pittori la cooperativa ferrovieri la cooperativa la cooperativa cementori la cooperativa braccianti la cooperativa aratori cioè ogni attività economica era organizzata in forma di cooperativa e questo come dire a parte il il progetto funzionava allora quando arriva il fascismo cosa accade di tutta questa costruzione abbiamo visto perché il fascismo vince anche a Reggio c'è la stessa cosa noi stiamo lavorando come storico su un progetto che si chiama buco nero cioè perché proprio quel periodo lì in cui cade la c'è la democrazia è stato in qualche modo dimenticato per dire ma si ha vinto il fascismo no ha vinto il fascismo perché ha massacrato la gente dall'uccisione di Gasparini e di Zaccarelli a Correggio il capodanno del 20 il primo maggio di sangue a Cavriago nel 21 fino al 24 l'uccisione di Antonio Piccinini candidato alle elezioni è un ininterrotta serie di azioni di violente di attacchi di saccheggi quindi con le condizioni ma che abbiamo detto all'inizio con lo Stato che stava a guardare il comune di Reggio Emilia appunto cacciato dal della sala del Tricolore il 30 marzo del del 21 40 giorni dopo c'è la prefettura commissaria il comune fatto c'è nessun problema c'è nessun tentativo di come dire il sindaco era stato eletto democraticamente era un'assemblea no c'è viene commissariato c'è dopo di che ce ne parliamo nel 45 quindi anche a Reggio c'è un altro elemento che è in un certo senso forse anche un po' antipatico non so come dire perché esce dallo schema i giovani sono per per l'innovazione no c'è attenzione perché anche un problema generazionale abbiamo visto all'inizio i giovani sono quelli che una volta tornati dal fronte scelgono due strade contraposte o il nero o il rosso la consapevolezza di Zibordi è che arriverà tardi dice ma i giovani non sono più con noi è un segnale di allarme forte che lui lancia cioè perché perché per un giovane immaginatevi cioè tornare dal fronte e di nuovo dire bene adesso si rincomincia con con la lega il sindacato lo sciopero l'azione i carabinieri che ti bastonano il padrone è molto più semplice da una parte dire facciamo come in Russia e lo slogan non sarà più fare come reggio Emilia ma sarà facciamo come in Russia tutto subito perché dobbiamo andare dal padrone farci dare una lira in più all'ora di giorno per lavorare andiamo ammazziamo il padrone gli prendiamo la terra e la terra è nostra peccato che in Italia non ci fossero le condizioni per farlo ma ovviamente è chiaro che il padrone l'agrario di di Carpi di Mirandola di Gostalla di Novellara non sta ad aspettare paga organizza c'è le sue squadre è lo squadrismo che nasce così cioè come dire non infatti c'è la dimostrazione è proprio come il fascismo nasce a Reggio Emilia il primo fascium di Reggio Emilia nasce nel nel novembre del del 20 e in parallelo a Novellara nasce già una cosa un po' particolare che si chiama unione antibolshevica anche lì finanziata dagli agrari di Novellara bene il fascio invece il primo fascio di Reggio è un fascio giovanile è un fascio di studenti ci sono tre persone Amos Maramotti Luigi Milton Lari e Giovanni Dall'Orto che poi sarà l'unico che farà carriera ma sono dei ragazzi del liceo sono figli della borghesia reggiana non avevano l'età per andare a combattere adesso vogliono fare la loro guerra contro i rossi contro il nemico interno e fondano il fascio e poi vanno a Milano vanno da Arnaldo Mussolini a chiedergli come dire la patente c'è il riconoscimento del del fascio di Reggio ed Arnaldo Mussolini li rimanda a casa ma con un po' anche di così con un sorriso ironico dicendo no ragazzi questa roba seria andate a casa voi siete degli studenti ci lasciate perdere ed il fascio a Reggio nascerà in febbraio due mesi dopo e come nascerà nascerà nelle stanze della camera d'agricoltura che era l'associazione degli agrari di Reggio cioè dei proprietari di Reggio ecco quello è il fascio vero il fascio serio non quello non sono degli studenti ecco ed ecco il fascio lì che poi appunto non viene dalle campagne cioè le azioni ma che avvengono avvengono sempre fuori dalla città cioè la città arriverà dopo cioè le azioni vengono dalle campagne a colpire quali parti cioè della struttura non riformista essenzialmente a parte le strutture politiche le leghe i sindacati i sindacalisti ovviamente la cooperazione di consumo perché è quella la cooperazione di consumo che dà fastidio a uno dei principali sponsor del del fascismo cioè ai commercianti cioè perché quello era c'è una spina nel fianco per i commercianti ovviamente non potete immaginare una concorrenza cioè di quel livello ecco quindi il fascismo colpirà duramente essenzialmente la cooperazione di consumo anche perché il fascismo e vedo che il tempo è andato quindi ci chiudo abbastanza velocemente il fascismo anche in questo caso ha una sua elasticità ideologica perché il fascismo proclamerà di non essere contrario alla cooperazione anzi ma di essere contrario all'uso politico della cooperazione che è altra cosa e la dimostrazione ce lo dà nei fatti nel nel 33 viene istituita l'ente nazionale fascista della cooperazione internazionale fascista della cooperazione e il presidente di questo ente sarà dal 33 fino al 45 chi l'onorevole Giovanni Fabrici di Novellara ecco qua c'è la provincia cooperativa che passa all'interno del fascismo perché ma perché si può dire tutto il male dei fascisti e di quelli in dire Giovanni in particolare però un minimo di acume politico lo avevano e sapevano benissimo che ormai la cooperazione era talmente parte dell'economia della provincia che non avrebbe avuto alcun senso distruggere delle strutture che funzionavano perché avrebbe voluto dire buttare nella miseria tutta una provincia e quindi crearsi dei problemi enormi allora si nazionalizzano le cooperative per tutto il ventennio cioè le cooperative si chiameranno cooperativa nazionale dei dei pittori cooperativa nazionale avranno un presidente indicato gradito al fascio e poi la cooperativa andrà avanti perché era l'economia di tutta una provincia un nome per tutti nel 1934 a Reggio viene fondata la eh eh c'è la cooperativa Giglio insomma c'è per capirci no c'è le latterie cooperative ecco c'è le latterie sono appunto fondate nel 1934 il rogito viene fatto dal notaio del fascio di Reggio i soldi arrivano dalla cassa di risparmio di Reggio che essendo pubblica era a controllo fascista ma chi sarà il direttore sarà quella grande figura cioè di cooperatore che si chiamava Romeo Galaverni già socialista ma che però era oggi diremmo un tecnico capace di fare funzionare ma con le invenzioni il presidente naturalmente era di osservanza fascista ma ma la fortuna di tutto il nostro sistema agroalimentare una è lì in questa eh in questa razionalità in questa spregiudicatesse anche nel nel gestire il potere io mi fermerei qui se 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 non ho ovviamente non potrei andare avanti ancora ma insomma c'è l'orario è già passato un'ora mi sembra già più che sufficiente allora io passerei alle domande gliene pongo già una che vedo già qui scritta ehm io gliela leggo eh Getuglio Artoni segretario provinciale del partito fascista nel ventennio ingegnere autore del primo piano regolatore di Reggio Emilia nel 36 nel secondo dopoguerra venne invitata ad insegnare alla scuola rinascita voluta da partigiani comunisti diretta da pari d'allegri com'è che avvenne questo cambiamento Allora adesso a parte i casi personali Artoni negli ultimi anni dell'assolutività ha progettato qualche cosa anche qui a Castelnuovo Monti per intenderci era un'ingegnere era un tecnico cioè come figura non era assolutamente una persona oggi diremmo un estremista assolutamente lui era un ingegnere che in un breve periodo ma della sua attività ebbe anche delle cariche politiche quindi come dire niente di particolarmente non mi sorprende ecco anche perché c'era la necessità poi mi fa piacere c'è la citazione della scuola appunto della rinascita ma del dopoguerra c'era la necessità ma di usare tutte le forze che erano disponibili quindi cioè perché no c'è di quali colpe c'era macchiato Artoni che era stato un gerarca negli anni 30 io non cioè non ho avuto il tempo ma di affrontare un argomento ma che al quale io sono abbastanza attaccato nel senso sul come dire sul su quanto abbiamo fatto i conti noi ma con il fascismo cioè vi vi faccio vedere soltanto una foto anche se insomma che l'argomento è estremamente complesso complicato non voglio dare una risposta in così breve tempo appena trovo la foto se la trovo eccola qua eccola qua allora il luogo lo conosciamo tutti perché questa è Piazza d'Armi a Reggio Emilia l'anno è il 1934 e l'occasione è la visita di Achille Starace alla nostra città il segretario del partito fascista sul tetto vedete là in fondo ma dei del del palazzo dei musei la invocazione duce a Reggio pieni a Reggio duce ecco allora vedete questa piazza è piena è colma è stracolma e questa e questa gente era in piazza perché voleva essere in piazza allora una riflessione su come ma ci porterebbe molto lontano il fascismo è in grado di costruire un consenso reale per vent'anni anche questo forse sarebbe una risposta anche alla domanda su Artoni cioè perché no altro è attenzione le figure che poi che poi sono state attive e si sono compromesse nel corso della Repubblica di Salò altro quello è il fascismo criminale ma il fascismo regime e beh il fascismo regime era anche quella piazza piena anche perché come dice giustamente lei bisogna ricordare che al fascismo aderirono personaggi anche di calibro intellettuale piuttosto alto di cui noi non possiamo esimerci dallo studiarli e dal considerarli uno tra tutti è Pirandello Pirandello aderì apertamente al partito fascista ma anche Ungaretti sono poeti e scrittori che però noi non possiamo ignorare dire sono fascisti sono brutti e cattivi il discorso giustamente cambia dopo l'armistizio del 43 ecco lì sì giustamente lì cambia completamente io volevo fare alcune domande io che mi sono venute in mente per dare anche il tempo al pubblico se ne ha altre di scrivere tranquillamente per quanto riguarda la montagna come il fascismo riuscì ad attecchire meglio proprio perché zona agreste o riuscì ad attecchire in alta maniera allora intanto la montagna può vantare un un primato allora il comune di reggio cade nel marzo maggio del 21 poi uno dopo l'altro gli altri 39 comuni che erano in mano ad amministrazioni socialiste cadono come birilli l'ultimo comune ma che diventa fascista in provincia di reggio miglia è il comune di Carpineti c'è il comune di Carpineti perché perché era un'amministrazione popolare del partito popolare e c'era una figura di prestigio come come Domenico Farioli quindi c'è la montagna è un argomento che è molto interessante io ho fatto la mia tesi sul comune di Carpineti proprio dal 1900 al 1948 la montagna è un territorio che non dobbiamo dimenticare in quali condizioni di arretratezza era cioè noi non possiamo dimenticare che evento fu l'iniziativa di Pasquale Marconi con l'apertura dell'ospedale noi stiamo parlando di una montagna che a parte la statale 63 aveva una viabilità come dire assolutamente così cioè per capirci faccio un esempio c'è la strada per la Val d'Asta cioè da Villa Minosso finiva il ponte della Governara basta finito dopo di che per andare in tutta la Val d'Asta fino a Febbio non parliamo di Civago c'era una carraia allora capite che un'emergenza sanitaria a Febbio ma anche un'emergenza sanitaria insomma era miseria insomma capite ma che c'è l'esito era no c'era già deciso in partenza quindi c'è la costruzione dell'ospedale di Coste di Nuovo Monti il fascismo ha l'abilità di investire in opere pubbliche penso alla alla casa del fascismo di Castelnuovo che forse qualcuno dirà ma dov'è cos'è è esattamente dove adesso c'è il cinema e il teatro e quindi ha questa capacità di sì insomma di lavorare su queste zone più svantaggiate attenzione però non pensiamo e non crediamo a quello che dicevano gli stessi fascisti quando parlavano di rivoluzione fascista no cioè i rapporti di classe sono quelli chi era ricco prima lo resta dopo e chi era povero prima non diventerà mai ricco non è un caso ma che c'è molti studi sono molto interessanti fatti già da c'è da anni penso ai lavori dell'amica appunto Cleo Pinedoli o quelli di Giovanna Caroli sull'emigrazione la montagna era un serbatoio di emigrazione stagionale ma anche a lunga durata quindi e si emigra se si sta male vuol dire ovvio non è banale quindi la montagna ha questa dualità di una conservazione io ho visto il caso non c'è di Carpinetti ma conosco abbastanza anche altre zone c'è di conservazione molto dei rapporti appunto sociali questo è chiarissimo c'è una specie di congelamento ecco questo sì allora le leggo un'altra domanda che è appena arrivata si chiedono se il fenomeno dello squadrismo abbia interessato in qualche modo anche la montagna reggiana sì sì ma in maniera molto molto limitata abbiamo degli episodi di attacco adesso vado a memoria ma tipo la cooperativa di Felina c'è alcuni spacci alcuni negozi sì però se andiamo a vedere l'elenco della violenza c'è la violenza più dura più agita mi viene in mente l'assalto e come dire poi c'è l'omicidio al sindaco di Vezzano sul crostolo appunto Lolli ecco ma oltre cioè no perché c'è perché la struttura era c'era fragile non c'era debole non cioè prima c'è da lavorare non passatemi l'espressione su tutta la pianura su tutta la pede collina ecco cioè la montagna era da un punto di vista politico era marginale un'altra domanda questa più dal carattere molto più contemporaneo ci chiedono una sua riflessione sulla necessità di una legge contro la propaganda fascista ossia quella promossa dal comune di Stazzema allora voglio dire io sono favorevole alla legge come a qualunque iniziativa contro la propaganda fascista il problema è che in un mondo un po' migliore e in un paese un po' migliore non dovremmo averne ancora bisogno faccio un paragone io negli ultimi anni con Istorec poi anche per altre motivazioni sono stato spesso in Germania i condannati del processo di Norimberga una volta impiccati se le loro salme furono cremate e le ceneri furono sparse nel mare del nord noi possiamo prendere la macchina fare un'ora o poco più di strada e andare a piangere sulla tomba del cavalier Benito Mussolini capite allora diciamo che c'è un problema cioè è un problema di uscita di un paese da una da una dittatura e passaggio alla democrazia come è stato il nostro passaggio come è stato quello appunto non tedesco anche la Germania ha infiniti problemi non ce lo vediamo sono stato felice ieri di vedere che nelle elezioni del Baden-Württemberg e della Renania no palatinato Alternative für Deutschland ha perso cioè ha perso voti quindi è andato indietro è un elemento positivo ma insomma che non sono tutte rose e fiori in Italia certamente c'è questo problema è quello che dicevo all'inizio per questo io credo che bisogna continuare a parlare di fascismo anche io non preferirei dire sì c'è un fenomeno di cui abbiamo tracce antiche ma no non è così perché faccio un altro esempio per capirci alcuni anni fa durante un viaggio della memoria c'erano anche le scuole di Castelnuovo sulle sulle tracce di delle donne di Rosenstrasse cioè nel centro di Berlino c'è questa azione per cui delle donne sposate c'è degli ebrei no ci riescono a far liberare i loro uomini perché nonostante fossero cioè di religione ebraica e c'è un monumento dove noi abbiamo fatto un incontro con tutti gli studenti anche ma con alcuni sindaci mi ricordo a un certo punto ho visto che a fianco dei due o tre poliziotti in maniera molto discreta molto discreta c'erano 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 degli operai cioè loro ho chiesto ma cosa fanno devono non so c'è la manutenzione dice no 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 sai è che sempre quando ci sono manifestazioni cioè di questo tipo al termine e nei giorni successivi noi controlliamo che i neonazisti non vengano a fare svastiche cioè non vengano a insultare il luogo però l'anno dopo tornando da Auschwitz ci fermiamo al primo autogrill dopo la frontiera quindi già in Italia cioè si prende un caffè uno studente viene con la faccia un po' sorpresa dire ma venite a vedere venite a vedere cosa c'è in vetrina nell'autogrill c'erano delle bottiglie di ottimo cabernet immagino ma con l'etichetta Hitler Himmler cioè generale Piper ci siamo informati è assolutamente legale ecco allora capite che dobbiamo fare ancora della strada ecco io vuol dire a me è capitato in un'edicola cioè non dico il paese della montagna cioè di vedere esposto un calendario di Benito Mussolini l'ho comperato e poi ho chiesto all'edicolante per favore non comprarne un altro non mettene fuori un altro eh però capito insomma ecco quindi eh cioè di strada da fare eh ce n'è ancora insomma allora un'altra domanda che è appena arrivata gliela leggo tutta riguardo alla montagna vorrei fare una domanda su Viano ehm il signore Giacomo Mazzalli che ci pone la domanda due dei quattro squadristi morti nel 21-22 erano di quel comune nel 19 lo stesso comune di Viano fu l'unico della collina a registrare una netta vittoria di un sindaco popolare liberale è un caso che affonda nel retaggio della storia di quel comune o è dovuto alla presenza di un'attività politica forte pur essendo un piccolo comune c'era un fascio sia Viano che una Regnano grazie per la risposta allora io prendo eh l'aggettivo eventuale cioè nel senso che io adesso non cioè non so esattamente la situazione di Viano eh posso immaginare soltanto che ehm c'è per altre appunto similitudini c'è la fascia c'è della pedemontana Noviano ancora come diranno gravità sul appunto no c'è sulla c'è sulla pedemontana quella fosse una delle fasce dove c'era una organizzazione persistente socialista e quindi c'è più forte è stata una appunto no un attacco eh cioè dei fascisti che non mi sbilancio non cioè non conosco esattamente il caso di Viano non lo ricordo ma per similitudine penso nella fascia no pedemontana no scandiano eh c'è da una parte no vezzano dall'altra caso al grande ancora no caso al grande fu ci fu bastonato duramente il sindaco Farri che poi fu ucciso cioè nell'immediato dopoguerra da eh cioè da partigiani comunisti quindi eh sì voglio dire era c'è una zona ad attività no politica ecco poi nello specifico non mi sbilancio perché non voglio eh entrare troppo nel dettaglio volevo porle io un'altra domanda lei all'inizio ha detto che eh con questo recco ha lavorato a questo progetto che si chiama buco nero mh perché effettivamente di di saggistica storica che si occupi del fascismo nelle nostre zone non se ne trova tanto pensa che possa essere un grave problema anche questo perché la diffusione eh della saggistica cioè la mancanza pardon della saggistica mh poi io ovviamente lo vedo dal punto di vista di uno studente quindi però per me è una grave mancanza perché eh se io volesse approfondire un argomento io mi trovo subito mh con un muro di fronte cioè che non trovo niente sì vuol dire anche per questo non portiamo avanti il nostro progetto perché ehm vuol dire credo che sia una questione anche eh di stagioni storiografiche cioè sulla nascita del fascismo a Reggio c'è l'opera di Cavandoli che è del degli anni settanta ancora prima c'era l'opera di Giannino De Gani eh appunto sulle violenze dopo eh cioè tranne quella stagione degli anni ottanta in cui eh in cui molti comuni della nostra provincia hanno fatto la propria storia e quindi si si trova all'interno di quelle storie lì penso no eh appunto libri ancora di Cavandoli no quattro castelle ribelle c'hanno per la libertà eh le opere no di Basenghi su su scandiano eh e quindi c'è da andarle a trovare nei singoli comuni ecco anni ottanta no no dopo è stata abbandonata la la cioè la storiografia insomma cioè va per altre strade cioè va per le strade ma che vuole eh ehm personalmente non rivendico il fatto ma che l'unica storia del partito nazionale fascista reggio dal 25 al 43 l'ho scritta io però confesso ma che l'ho scritta nell'88 quindi ormai in anni abbastanza c'è abbastanza lontani devo dire che penso sia ancora valida ecco o quantomeno nessuno l'ha contestata quindi quindi cioè però eh sì è vero insomma ma è un problema diciamo di storiografia di indirizzi perché poi noi potremmo eh come dire entrare nel merito ma sul perché ogni comune ha fatto la sua storia eccetera eccetera e perché a un certo punto non l'hanno fatta più ecco anche questo è interessante ma questo negli anni dopo la caduta del muro di Berlino per capirci e questo è significativo che coincida con un cambiamento del mondo in effetti e e e se mi concede la battuta eh prima c'era un eh come dire un un riscontro identitario nella resistenza dopo eh ha avuto la la preminenza un altro mito identitario che però non era assolutamente divisivo c'è un mito sul quale come dire no chi può dire di no eh ce sa a quale mito alludo a quello della memoria condivisa no al mito di Matilde di Canossa cioè a parte il sottoscritto e pochi altri che hanno sempre fatto il tifo per Enrico IV sì non so faccio outing in questo senso però il mito di Matilde di Canossa e quello del tricolore ma che vanno insieme negli stessi anni sono due miti che come dire condivisi ma cioè ma chi può dire di no no che accomunano la fratella ecco è chiaro ma che la resistenza era un elemento divisivo certo ma con il cambiamento ecco allora i miti più rassicuranti hanno avuto più successo sì a tal proposito come le ho detto io mi occupo di storia medievale nella mia tesi triennale sostanzialmente Reggio Emilia ha un exploit di produzione sulla storia di Matilde di Canossa ma sui secoli successivi non si trova quasi nulla anzi io ho trovato un saggio che parla di Reggio nel 300 che è quello di Andrea Gasperini la città assediata per il resto uno deve fare riferimento su testi che arrivano dall'800 perché io ho dovuto ritirare fuori il Tiraboschi quindi diciamo che insomma però davvero forse anche mi passi a me il termine questa volta diciamo cose un po' più commerciali anche mi chiederà chiedo scusa a tutti gli storici però effettivamente sono cose più legate anche al turismo e quindi ad un'idea anche più economica per così dire della storia sì sì ma io sono vuol dire anch'io condivido cioè che sia chiaro io non ho assolutamente nulla contro cioè la storiografia non c'è di Matilde per l'amor di Dio eh sì nessuno discute questo né tantomeno sull'uso cioè se col marchio di Matilde non vendiamo più grana e più l'ambrusco a me va assolutamente bene incomincio a avere qualche problema se eh come dire cioè tutto viene ricondotto a Matilde beh ci faccio fatica a crederlo e eh vuol dire io non ho simpatia non c'è legittimiste o cose così però questi poveri estensi che sono stati a reggio eh quattro secoli e mezzo più o meno beh dico avranno lasciato un segno più forte di Matilde eh eh eppure come lei sa benissimo c'è la storiografia sugli estensi è una cosa molto di nicchia abbastanza datata come dire poco no poco praticata insomma quindi eh cioè ma è normale per l'amor di Dio no cioè non me la sto a prendere no con con la povera no contessa cioè verifico però che eh che nel tempo cambiano i eh i miti identitari cioè non è un caso che Reggio Emilia medaglia d'oro della resistenza terra dei fratelli Cervi terra di Don Pasquino Borghi non abbia un museo della resistenza c'era fino agli anni ottanta poi fu chiuso nell'indifferenza generale e non è mai più stato riaperto eh negli ultimi anni no Reggio appunto no eh Istoreco ha attivato ma quest'altro progetto che vi invito ad andare a vedere online che è molto bello no che si chiama Livello 9 appunto livello 900 che è il museo virtuale di Reggio Emilia nel 900 cioè perché uno che arrivi dall'estero o anche da un'altra città arriva e chiede dove che posso andare a vedere dove è la storia di Reggio del 900 che qualche cosina l'abbiamo fatta nel 900 Reggio no cioè vai sul web e vedi livello 9 perché è quello che possiamo fare noi come storici come divulgatori ma anche questo è chiaro ma che segnala un problema di identità di costruzione della memoria eccetera 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 adesso andremo andremo lontano ma è vero cioè la storiografia è sempre lo specchio della cultura di una società cioè la storiografia non vive sul no allora siccome non vedo altre domande io le chiedo in conclusione ah no un'altra domanda c'è scusate non avevo proprio letto chiedono se sia accertata la presenza di Reggiani tra i legionari fiumani di D'Annunzio allora anche qui non voglio dire una cosa per l'altra credo di sì certamente sì non vorrei sbagliare ma anche una figura importante nella storia di Castelnuovo Monti e sto parlando di Ceglio Rabotti che è stato anche anche poi commissario prefettizio Reggio insomma ha avuto dei ruoli di incarico so che certamente ha avuto dei rapporti personali con Gabriele D'Annunzio e non voglio sbiasciare perché non mi piace dire una cosa se non sono certo ma ecco quello era l'ambiente quindi oltre altri ma questo è una figura perché poi ha avuto tutta una serie di ruoli di incarichi anche nel corso della resistenza ha avuto un ruolo nei rapporti con suo cugino Don Rabotti parroco di Baiso insomma c'è tutta una storia importante dietro e la sua origine cioè lui arriva al fascismo dai appunto dei volontari di fiume ecco che poi fisicamente ci fosse questo oggi in questo momento non lo so se ve lo posso dire fra domani dopo la notte diciamo così allora professore le chiedo io l'ultima cosa che le chiedo poi le chiedo una bibliografia e la lascio andare possiamo sfatare questo mito d'annunzio il fascismo qual è il legame reale tra uno e l'altro quante ore ho per rispondere no vuol dire c'è una cosa molto complessa e complicata ma sia per le figure io devo dire che negli ultimi anni ho un po' ho un po' riscoperto una Gabriele d'annunzio ma da un punto di vista artistico estetico ecco non politico cioè Gabriele d'annunzio oggi sarebbe stata una rock star cioè era c'è una persona di una cioè di una modernità di una di una eccezionalità nel senso vero non c'è dei termini insomma non c'è c'è di fronte ad una persona come Mussolini no cioè Mussolini era l'animale politico era una era una persona capace veramente di di fare politica male anche per l'amor di Dio anzi certo ma fare politica cogliere le occasioni costruire un mito anche d'annunzio sul no sul versante mito poetico come si dice non scherzava ma d'annunzio era vecchio cioè fra lui e Mussolini a occhio credo credo che ci fosse almeno una ventina d'anni insomma era un'altra generazione poi conoscendo appunto c'è d'annunzio è stato anche facile per Mussolini fra virgolette comprare il mito perché quindi no non credo che abbia mai rappresentato un rischio concreto ecco cioè c'è un rischio più concreto il Mussolini è stata la seconda come dire i suoi compagni squadristi più giovani penso a uno come Italo Balbo ecco Italo Balbo sì perché Italo Balbo era l'eroe giovane trasvolatore insomma aveva tutta una serie di 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 qualità infatti misteriosamente lo abbattono cade un aereo colpito dalla nostra contraerea il nostro contraereo che non ha mai preso un aereo in tutta la seconda guerra mondiale ha preso quello di Italo Balbo ma queste sono le stranezze dello storico va bene io le chiedo quindi in conclusione della sua conferenza se avesse una bibliografia minima da consigliarci se esistesse un documento o anche dei video da poter guardare per capire Reggio nel novecento dagli inizi fino all'affermazione del fascismo e anche oltre e un luogo da visitare un luogo non fisico abbiamo capito essere il sito di Storeco in particolare la parte sul novecento allora su bibliografia io vi consiglierei due testi di narrativa il primo è un testo contemporaneo ed è M di Antonio Scurati che è proprio M per Mussolini ovviamente il primo volume adesso è uscito anche il secondo e un altro testo di narrativa che secondo me dà molto il clima l'idea l'italia l'italia di quegli anni è il conformista di Alberto Moravia il libro e il film c'è uno dei pochi casi in cui il libro e il film sono direi all'altezza compatibili video allora video vi invito ad andare sul sito dell'istituto luce c'è un archivio abbastanza ampio ci potete vedere dei clip ma sono interessanti ci vedevo l'altro giorno la clip di un paio di minuti forse dell'inaugurazione del sanatorio quello che oggi è l'ospedale Sparanzani di Reggio inaugurato da Maria Iosè la moglie di Umberto di Savoia quello è interessante poi c'è un classico per gli appassionati di aerei come ci è sottoscritto c'è il video che si intitola Primo volo ed è appunto sempre fatto dall'istituto luce sul primo volo di un aereo delle reggiane appunto ieri 2001 nel 1940 un luogo un luogo in provincia ma guardi noi stiamo preparando per l'8 aprile c'è una serie di installazioni perché l'8 aprile del 21 quindi per il centenario l'8 aprile del 21 i fascisti assalirono e devastarono la sede della camera del lavoro la tipografia della giustizia ed il circolo socialista e lì noi appunto in quei giorni non metteremo dei come dire dei totem per segnare il luogo per segnare il luogo ecco allora il luogo potrebbe essere la sede all'epoca della camera del lavoro anche perché le altre due sedi non ci sono più la città è cambiata allora la sede della camera del lavoro era in via Farini all'interno di palazzo Ancini dove adesso anche sede Lampi ecco ecco allora noi faremo alcune iniziative con tutte le regole quant'altro eccetera eccetera lì dentro quella era la sede della camera del lavoro nel 1921 e fu assalita e devastata quindi ecco il luogo secondo me potrebbe essere quello va bene per invece il fascismo a Reggio come bibliografia noi possiamo fare riferimento al suo saggio del 1988 che si intitola oh qui mi coglie impreparato tipo vent'anni di fascismo a Reggio Emilia ecco cioè poi in biblioteca perché ormai come ci abbiamo detto prima si trova in biblioteca l'opera di Cavandoli sul appunto no sul sul movimento no fascista Reggio che mi sembra quella ancora oggi in sostanza la più attendibile insomma va bene noi la ringraziamo grazie per l'intervento speriamo di poterla ritrovare magari anche in presenza nelle prossime edizioni io ringrazio il pubblico saluto tutti e come sempre vi ricordo i prossimi due appuntamenti che abbiamo ricordato anche all'inizio di questa serata che sono quello di lunedì prossima a cui vi do assolutamente appuntamento che è quello con Matteo Manfredini a parlare di religiosità nel Reggiano e poi quello di fine mese ossia del 29 di marzo con il professore Giuseppe Giovanelli a parlare delle vie e delle strade degli insediamenti nel gastaldato di Biesmantova grazie a tutti grazie di nuovo al professor Storchi buona sera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti